È stato firmato l'accordo di programma tra provincia dell'Aquila e comune per la famosa variante di Sassa, di cui si parla da anni, ma che ora vede una prima concretezza con l'accordo firmato. Opera che i cittadini attendevano da anni e che migliorerà la situazione al collasso al centro del paese, ormai distrutto dal passaggio dei mezzi pesanti. Opera ancora più strategica perché si inquadra nella costruzione del nuovo polo scolastico di Sassa, che vedrà la prima pietra nel 2021. La variante altro non è che una bretella, che però avrà lo scopo di decongestionare il traffico di un'arteria stretta e inadeguata alle nuove esigenze. L'ente è attuatore al comune con una spesa di 1.600.000 euro. Entro fine mese si partirà con la progettazione. Il tracciato è quello noto. Taglia in pratica al centro storico e dalla zona dei Carabinieri riesce a Sassascalo vicino ai campi sportivi. Un esempio di buona politica hanno sostenuto il sindaco e il presidente Angelo Caruso, che parla in questo caso di viabilità strategica anche per la nuova scuola, che ha dato ampia disponibilità con il contributo determinante del consigliere delegato alla viabilità Luca Rocci. Entro la fine del mese verranno affidati i servizi di progettazione, verrà fatta la progettazione di fattibilità tecnica economica e il definitivo insieme, quindi poi si può procedere direttamente con la gara. Di fatto il tracciato si mette sulla strada attuale, quella che passa vicino al MUSP di Sassa, poi prima della stazione dei Carabinieri, declina verso destra e aggira tutta la parte della cosiddetta strettoia. Sarà una strada che servirà non soltanto per decongestionare un punto molto delicato e molto trafficato di questa importante frazione della città dell'Aquila, ma anche sarà una via di servizio alla nuova scuola, al nuovo polo scolastico che verrà costruito proprio in adiacenza della strada, secondo fra l'altro previsioni vecchie di PRG, quindi nulla di nuovo in linea con lo sviluppo immaginato per quel territorio e anche e soprattutto, mi preme sottolinearlo, utilizzando una volumetria già esistente, quindi senza ulteriore consumo di suolo. Grazie a tutti.